E gli effetti dell'accumulo di sostanze tossiche sulla salute come diossine, metalli e altri sottoprodotti di rifiuti, industria e inquinamento sono sempre più documentati e facili da controllare e riscontrare nel nostro sangue. Ma i ricercatori della Campania, regione della terra dei fuochi, hanno deciso di fare un passo in più e documentare come una volta individuato il problema si possa tentare anche di superarlo, bonificando oltre ai terreni inquinati anche il corpo umano. Francesca Ghidini della TGR di Napoli ha seguito l'esperimento che coinvolge giovani anche del Lazio e della Lombardia. Vediamo. L'ho solito prendere il latte e ho sostituito il latte con tè o altri prodotti che potevano insomma essere utilizzati nel contesto alimentare che mi era stato suggerito. Poi ho ovviamente dovuto seguire anche durante la settimana una serie di pasti che contenevano i legumi e le verdure. Silvio è uno dei 450 volontari tra i 18 e i 22 anni che sperimentano la dieta disintossicante e messa a punto da una cinquantina di ricercatori tra medici e nutrizionisti. Il regime alimentare studiato in collaborazione con il Ministero della Salute riduce la presenza nell'organismo di diossine, policloro bifenili e metalli come piombo, catmio, cromo. I primi risultati sono già confortanti. La dieta dura quattro mesi ed è a base principalmente vegetale, con ortaggi e verdure di stagione, rigorosamente biologici e a chilometro zero. Il pomodoro che è ricchissimo di licopene ed è un grande antiossidante, ancora cavolo, broccolo, la cosiddetta torcella napoletana che hanno per esempio una sostanza che si chiama sulforafano che ha una grande potere detossificante oltre che essere anticancerogeno, più altri quindi vegetali come le carote, le zucche, anche i grani antichi, ovviamente la senatore Capè, sono tutta una serie appunto di sistemi che noi abbiamo individuato per ridurre appunto la presenza di questi metalli, di queste sostanze tossiche. Una dieta basata soprattutto su ortaggi e verdure, dal potere altamente antiossidante e soprattutto ortaggi e verdure della nostra terra. Nutrizione che non è solo prevenzione o cura, ma in questo caso è bonifica, quindi bonifica dell'individuo. Prima di partire con la dieta i volontari si sottopongono ad alcuni esami, prelievi di sangue, liquido, seminale, saliva, capelli, urina. Dopo la sperimentazione si ripetono i test di laboratorio. Come ti senti? Sicuramente rispetto a prima più leggero, è meglio. Il progetto coinvolge le aree inquinate di tre regioni italiane, Terra dei Fuochi in Campania, Valle del Sacco nel Lazio, Brescia-Caffaro in Lombardia. Grazie a tutti.